Signora, abbiamo Jean-Claude Blanc, il mitico dirigente della Juve. Direttore, in bocca al lupo per domani. Grazie, molto gentile. Faccio anche una ripresa con lei. Lora, fai anche a me? Certo. La video è grande. Siamo con l'elite. Quindi siamo su YouTube. È un onore. Sto col vertice bianconero. Ragazzi, da lontano, cani, da Polenza. Grandi tifosi bianconeri. Grandi tifosi bianconeri. Salve la panicella a tutta la strada. Grazie a voi. Bencitarvi. Grazie mille. Ciao. Salve in bocca al lupo. Grazie a tutti.